E' detto questo, salve amici, benvenuti a benzenati, grazie a tutti, 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 grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 No! A me mi sembrava che mi si fosse frizzato il gioco perchè... Ho fatto pure skill! Lo sai dove sei skill? Skill è praticamente un valore affidato Tu fai il gioco del valore E' come su Zero la cosa del... Si chiama del Miracle Shot Ed ecco così su Inezoma Match a te, è solo che qua è più raro Invece di Zero è proprio la tematica del Miracle Shot Ho ottenuto un tè e una palla Lady Xon Buono Non lo posso mangiare, è su un gioco Facciamo l'ultima sfida raga E faremo il Miximax di Riccardo Il mio PG preferito di Nazionale Ti dover entrare con rumor quando è bello Eh, peccato che non lo posso fare, né io né tu Né io né tu Anzi, almeno io finchè non apro... Levin Ti ho detto che farò un altro sandbox, vero? Non mi prendo facilmente Prefando qualcosa che sono in tempo Aldogna Levin Troppo discusso a livelli alti? Ma... non vuol apparente che Ros Molto di più! Io, insomma, il tiro paleante farebbe molto di più! Sai vero? Ma cosa? Che il tiro paleante fa 200 milioni! Sono piccolissimo su che... No, veramente, facendo 220 milioni! Ah, ed è un evento! Un evento! Grazie! Anch'io faccio i showcase di zero sugli eventi! Per esempio, faccio uno showcase su... ...un carissimo, carissimo, carissimo... ...sull'evento di Tsubasa con l'Occusta che fa 5 milioni! GOOOOOO! That's the way! ... 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